Dopo il K.O. di Reggio Calabria subito dalla Region, l'Alba Verde, per la seconda giornata di ritorno del girone M della serie B2 femminile, ritorna tra le mura amiche del Palacanizzaro, affrontando sabato alle 18 la Brico City. Settimana turbolenta in casa Nissena, dove si è aperta una crisi tecnica con le dimissioni del duo Scollo-Gotte, immediatamente respinte dalla dirigenza Nissena. È un duro faccia a faccia che è diventato un richiamo al senso di responsabilità e appartenenza di un gruppo che è nato per disputare un campionato di vertice e a cui è stato ribadito il raggiungimento del play-off. Sabato, le pallavoliste Nissene affronteranno un avversario sulla carta abbordabile, anche se bisognerà verificare le scorie mentali che avrà lasciato l'ultima trasferta. Volley, serie B2, girone M, quindicesima giornata. Pallavolo Grotone-Zafferana. Gioiosa Ardenz-Comiso. Cuscatania-Procorrie-Ricina. Fidelis-Torretta-Planet. Stefanese-Saragena. Albaverde-Bricositi. Funivia-Etna. Volley-Region.